La presentazione di questa nostra audiocassetta, ricordo che l'audiocassetta da un lato è registrato il corpo bandistico di Taravino e dall'altra parte il gruppo musicanti dei nostri amici di Lopenhausen che sono qui rappresentati dal... Allora iniziamo la parte ufficiale, invitata dal presidente del corpo bandistico di Taravino per un saluto, il cavaliere Augusto Chisterio. Sono felice di dare il benvenuto a tutti coloro che sono voluti intervenire in questa occasione, alle autorità civile e religiose, a tutti gli amici e simpatizzanti, come per esempio la bandistico di Taravino e il corpo musicale di Taravino. Eppure la pronna sonora è fatta dal bimba in un anno. Eppure la pronna sonora è fatta dal bimba in un anno. E prego è il mento delle laute. Eppure la pronna sonora è fatta dal bimba in un anno. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!